Restate a Torre, la ricca kermess di eventi estivi che terrà compagnia ai cittadini torresi lungo tutto il mese di agosto. Il vice sindaco di Torre del Greco Enrico Pensati illustra le modalità di prenotazione per assistere ai singoli spettacoli. Innanzitutto grazie a voi di TV Siti che ci date l'opportunità di dichiarire le modalità di prenotazione agli eventi in Villa Macrina. Partiamo dal presupposto che per gli eventi in Litorania, quindi Biagio Izzo, Ivan Granatino e Salda Vinci, non vi è alcuna prenotazione, in quanto l'ingresso è libero ed è praticamente equiparabile ad una festa di piazza. Dove vi è l'obbligatorietà della prenotazione è per gli eventi in Villa Macrina. Per prenotare gli eventi in Villa Macrina c'è una pagina Facebook che si chiama Estate in Villa. Avrete su questa pagina Facebook un link per la prenotazione. Questo link sarà visibile a partire dal 27 di luglio. Quindi le mail che abbiamo ricevuto fino ad oggi non le possiamo tenere in considerazione perché non è ancora avviata la piattaforma. Quindi dal 27 di luglio, andando sulla pagina Facebook Estate in Villa, troverete un link biglietti prenotazione. Basta cliccare su questo link, vi chiederanno nome, cognome e numero massimo di due biglietti per ogni prenotazione. riceverete una conferma di avvenuta prenotazione. Quindi un car cord che potrete, diciamo, che dovrete esibire all'ingresso a Villa Macrina come conferma dell'avvenuta prenotazione. Questa è l'unica modalità ufficiale per prenotare gli eventi in Villa Macrina. Voglio ricordare che gli eventi in Villa Macrina è obbligatoria la prenotazione soltanto per il giorno 7 di agosto, quindi la prima serata della terza edizione del Folk Festival con Giuliana De Sio. C'è l'obbligo della prenotazione il 13 di agosto per lo spettacolo degli Artetica. C'è l'obbligo della prenotazione il 21 di agosto per lo spettacolo di Peppe Iodice. E c'è l'obbligo della prenotazione il 28 di agosto per lo spettacolo di Tony Tammaro e il 30 agosto per lo spettacolo di Magia DJ Lillo. Per queste date, sette giorni prima, sulla pagina Estate in Villa, la pagina Facebook, troverete il link di prenotazione dove basta cliccare e procedere alla registrazione. Ripeto, appena fate questa procedura, riceverete una conferma di avvenuta prenotazione. Per la litoranea non è prevista alcuna prenotazione in quanto l'ingresso è libero. Infine, nel caso vi possano essere dei dubbi o non si riesca nella corretta procedura di prenotazione, basta mandare un messaggio alla pagina Facebook, appunto, Estate in Villa o anche all'indirizzo mail appositamente creato, che è estateinvilla2022.gmail.com Grazie.